No, un'altra volta. Oh cavolo, andiamo. Lui è Nick, un musicista sensibile. Non ci vengo. Abbiamo un contratto, Nick. Mi sono preso un giorno libero. Con una pessima vita sociale. Ciao Triss, sono Nick. Ci siamo detti delle cose crudelli che nessuno dei due voleva dire. Come è successo quando mi hai lasciato il giorno del mio compleanno. Lei è Nora. Ok, potete entrare. Sempre condizionata dalle regole. Voglio che mi prometti che non ti ubriati e non mi lasci sola. Ma stasera? Nora, di nuovo sola? Sono venuta con un tipo. Davvero? È pronta a infrangerla. Ti va di fare il mio ragazzo per cinque minuti? Cosa? Reggimi il gioco, ok? Nick, Nora, come cavolo fate a conoscervi? Abbiamo lo stesso dentista. Già, è così. La riaccompagno a casa. Noi riaccompagniamo l'ubriacone. Voi divertitevi. Se le toccate un capello o qualsiasi altro pelo, vi faccio fuori. Nora, mi stanno portando via. Si riprenderà. Sei fuori servizio. Non è un taxi, mi dispiace. Ho detto che non è un taxi. Voglio chancicarti. Ecco, ultima fermata. Quanto ti devo? 8,50. Ho aggiunto un extra per il lavaggio. La ragazza è fuggita. Cosa? Cosa? Ah! Piola! Ma dove sei? Ho trovato Gesù. Gesù! È molto più alto di persona. Non siamo le fal più accanite della tua odiosa ex, quindi lo devi salvare. E questo? Conosci il colpo di Fon? Nora. Vieni. Che succede? Questi non sono affari tuoi. Spingimi ancora e... Che mi fai? Terribile. Una notte terribile. Nick e Nora. Tutto accadde in una notte. Che mi fai?